Bella ragazzi sono Xenic e sono qui con un vlog al volissimo così per dirvi appunto del Romics che ci sarà domani, cioè c'è già da ieri, c'è oggi, c'è domani e dopo domani ma noi ci saremo domani insieme a tutti gli altri youtuber che comunque verranno, quelli di Melagodo quindi saremo probabilmente con loro al padiglione 9, appunto allo stand, a fianco a loro, vicino allo stand vabbè, dove stanno loro insomma, e su domenica non si sa, sinceramente non lo sappiamo noi il riflesso degli occhiali è veramente orrendo, mamma mia, infatti fa messa tipo così, sì e che cosa dire, niente, era un video così giusto per intrattenervi un attimo per guadagnare tanti tanti soldi con un minuto di video non è vero, e... ah, una cosa veramente importante non ce l'ho, quindi non lo so, passate sulla pagina facebook che è sempre utile se volete seguiteci sui nostri portfili personali mi sento, cioè me è strano, fa un vlog senza dar il vicino che fa le battaglie di merda quindi non lo so, vabbè, comunque continuando a parlare passate sulla pagina facebook, seguiteci sui nostri portfili personali giftatemi le skin su lol, vi lascio l'id dell'account sotto che ora sto anche facendo le ranked, quindi mi servono più personaggi, più skin, più figo anche perché mi reportano se non faccio una skin lol non c'entrava niente e... portate tanto alcol a romix, mi raccomando cioè io voglio minimo due birre a testa da voi minimo due, ok? poi darile non c'è problema, portatevi una pera portatevi un qualche frutto, qualcosa cioè tipo tante pere, portate tante pere a Darryl, mi raccomando e a me tante birre che le berrò insieme a Omiatol e... poi vabbè, comunque rimanete aggiornati sulla nostra pagina perché magari vedremo anche dove andremo la sera, non lo so, qualcosa del genere come sulle pagine degli altri è stato un piacere stare qui con voi per 1 minuto e 57, ora 58, ora 59, ora 2 minuti quindi basta, a posto, da Granas è tutto, da Senni è tutto, bella!